di molte contraddizioni e lo dico in secondo luogo perché il tentativo di cui noi dobbiamo avere coscienza e che assieme dobbiamo cercare di mettere in campo è quello di restituire protagonismo al partito democratico, partendo da un'università e noi abbiamo in maniera assoluta invece la verità che in oggi questo partito, in questa regione non c'è stato non è stato fine in fondo in grado di esercitare il proprio compito e o cogliamo l'opportunità oggi o questa opportunità rischia di essere persa per sempre